Buongiorno da FTA Online, partenza positiva questa mattina per la borsa, Fuzzimib in guadagno dello 0,7% circa, siamo al di sopra dei massimi di febbraio dello scorso anno, quindi un segnale di forza sicuramente interessante, settimana scorsa i prezzi avevano provato in più occasioni di portarsi oltre quella resistenza, oggi ci stanno riuscendo, unica nota di prudenza è il fatto che se il Fuzzimib oggi è in deciso rialzo grazie soprattutto ai titoli bancari, il DAX invece è sostanzialmente sulla parità, non riesce a migliorarsi rispetto ai prezzi di venerdì scorso e settimana scorsa sono state disegnate alcune candele abbastanza deboli, in particolare nella giornata di giovedì era comparso un hanging man, quindi una candela dall'implicazione ribassista che poi non è stata confermata visto che i prezzi non sono scesi al di sotto del suo minimo, ma che comunque resta in evidenza sul grafico giornaliero. La stessa cosa si può dire anche per l'Eurostoxx 50, anche in questo caso in leggero calo oggi con i prezzi che non sono riusciti a fare nuove massime rispetto a quelli di settimana scorsa e vedete anche qui giovedì era stato disegnato un hanging man, quindi ancora una volta una candela potenzialmente ribassista. Per quello che riguarda la borsa USA abbiamo l'S&P 500 che venerdì si è avvicinato ai massimi di maggio, il record di maggio che però per il momento funzionano ancora come resistenza, quindi anche nel caso dell'S&P 500 che questa mattina come future è in leggero calo, per adesso siamo alla ricerca di nuovi segnali di forza che non sono ancora stati inviati. Anche qui settimana scorsa era comparsa una candela potenzialmente ribassista, uno shooting star la cui base più o meno aveva cercato di contenere per adesso le flessioni. Comunque anche per quello che riguarda la borsa USA siamo in attesa di un segnale di forza, mentre i rischi di un'evoluzione negativa non si possono di certo escludere. Oggi ci occupiamo di un paio di titoli del mercato italiano che sono di fondamentale importanza, Unicredit e Intesa San Paolo, anche perché Jefferies ha alzato il giudizio e il target di Unicredit, mentre ha abbassato il giudizio di Intesa, sostanzialmente suggerisce di incrementare Unicredit e di diminuire Intesa in portafoglio e vedremo se questo tipo di ragionamento ha senso per quello che riguarda l'analisi grafica. Per gli utenti Patron invece, Patron.com e FTA Online, guarderemo insieme Saras, Banco BPM, Emac e Interpump, tutti interessanti con movimenti importanti nel seduto di Erna. Ma iniziamo con Unicredit, settimana scorsa anche qui sono comparsa alcune candele di potenziale debolezza, lo shooting star del primo di giugno che ha un massimo a 10,76 circa. Questa mattina saremmo saliti con i prezzi marginalmente al di sopra di quei livelli, quindi se dovesse essere confermata la rottura 10,76 in chiusura di seduta avremmo sicuramente un segnale di forza importante. Unicredit, se andiamo a guardare l'evoluzione grafica negli ultimi mesi ci accorgiamo che ha disegnato anche un bel doppio minimo, questa figura rialzista, il lato alto del doppio minimo è stato superato in modo deciso il 10 di maggio, il target del doppio minimo si posiziona, proiettiamo l'ampiezza della figura dal punto di rottura si posiziona intorno ai 12,90, quindi se i prezzi sono confermati di sopra i 10,70 nella giornata odierna ci sono anche altre resistenze intermedie, ad esempio questa a 11,84 che è il gap del 28 febbraio dello scorso anno, ma in ogni caso si potrebbe puntare fino a quasi i 13 Euro. Su Unicredit se allarghiamo l'orizzonte dell'analisi notiamo però una cosa che secondo me non va sottovalutata, cioè se guardiamo il grafico dal, prendiamo il ribasso dal massimo del 2017 e andiamo a calcolare i rifracciamenti, ci accorgiamo, cancello quelli che avevo usato precedentemente per il target del doppio minimo, ci accorgiamo che questo massimo toccato settimana scorsa a 10,76 circa è esattamente sul 38,2% della discesa precedente con la candela settimanale archiviata venerdì che è un bel esempio di shooting star, quindi la seduta odierna sicuramente è importante, sta cercando di superare questa resistenza che è molto significativa anche in ottica di lungo termine, attenzione però perché appunto fino a che non saremo in chiusura di seduta, almeno una chiusura di seduta oltre i massimi di settimana scorsa, il quadro è condizionato anche da questa situazione del grafico settimanale, quindi prudenza su Unicredit nonostante il bel movimento messo a segno oggi, personalmente addirittura visto il bel rialzo di oggi se avessi il titolo in mano magari addirittura penserei di prendere profitto per poi valutare un nuovo ingresso nei prossimi giorni. Per quello che riguarda Intesa San Paolo andiamo a guardare subito il movimento di più ampio respiro, vedete qui ritorniamo sui massimi che abbiamo utilizzato come riferimento per quello che riguarda Unicredit, se tracciamo i ritracciamenti da quei massimi ci accorgiamo che anche qui siamo su un livello di resistenza importante, per adesso Unicredit ha ritracciato meno di intesa, ma anche intesa a 2,50 al 61,8% di ritracciamenti della discesa dai massimi di inizio 2018, quindi siamo in prossimità di un'area di resistenza importante e peraltro il 2,50 che è la resistenza grafica coincide con il target di Jeffries, insomma anche nel caso di intesa abbiamo una situazione che per evolvere in senso positivo dovrà inviare dei segnali di ulteriore forza, secondo me per adesso siamo ancora in una, diciamo in prossimità una resistenza tale per cui è meglio essere prudenti, è meglio cedere in prudenza piuttosto che sbilanciarsi in maniera arrembante a rialzo con il rischio di vedere e tornare indietro le quotazioni, tanto se l'area 2,50 verrà superata in modo netto ce ne accorgeremo e in quel caso il target sarà per quello che riguarda intesa sul 78,6% di 3, 52, 82, 2, 83 circa, quindi c'è sicuramente spazio per tornare ad intervenire. Ultima cosa che volevo guardare insieme a voi, la forza relativa che c'è tra, guardiamola tra Unicredit e Intesa per capire se effettivamente tra i due titoli è arrivato il momento di dare maggior peso a Unicredit rispetto ad Intesa, quindi guardiamo il grafico di forza relativa, mettiamo al denominatore Intesa San Paolo, questa curva ci dice mentre scende, fino a che la curva scende che Unicredit sottoperforma Intesa, quando la curva inizia a salire abbiamo invece una situazione di sovraperformance di Intesa di Unicredit contro Intesa. Allora, quello che abbiamo visto nell'ultimo anno circa è stato che Intesa ha sovraperformato Unicredit, però notiamo che recentemente c'è stata la rottura di questa trendline, quindi Unicredit ha iniziato a sovraperformare Intesa già alla fine del mese di aprile, ci è riuscito per praticamente tutto il mese di maggio, nelle ultime sedute c'era stato un ritorno di forza favorevole ad Intesa San Paolo, però mi sembra che si possa dire che effettivamente c'è stato un cambiamento di atteggiamento da parte del mercato, questa è la media mobile esponenziale a 100 giorni che è stata abbondantemente superata, vediamo la 200 giorni, anche se è stata superata e testata dall'alto con la flessione delle ultime sedute, insomma mi sembra di poter dire che effettivamente in questo momento, almeno se non sovrappesare Unicredit nel confronto di Intesa, in portafoglio i due titoli possono essere posizionati in modo equivalente. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.